ore 7 di mercoledì 8 giugno 2022 bentrovati alla rassegna stampa di fano tv come sempre tutti i giorni leggeremo il sunto vedremo di rilevare il sunto delle notizie che appaiono sul resto del carlino e sulle corriere adriatico a partire dalla pagina di fano per poi espandersi un pochino nel territorio per tutta la provincia ma anche per tutta la regione vediamo subito qual è il santo del giorno troviamo che è sante medardo sante medardo siamo nel quinto secolo ed è uno dei più illustri vescovi della chiesa di francia si distinse in modo particolare per la predicazione del vangelo per la sua umiltà con la quale esercitò il suo ministero e il suo amore verso i poveri fu amato e compianto dopo la sua morte da tutti i fedeli questo è un po il santo del giorno san medardo molto molto venerato in modo particolare in francia dove ha lasciato un grande ricordo ed ora passiamo invece noi alle previsioni del tempo dove vediamo che il sole questa mattina si è alzato alle 5 25 tramonterà alle 20 e 49 mentre il tempo è che ieri sera sembrava accennare ad un cambiamento perché il tempo il cielo si era rannuvolato però non ha piovuto in modo particolare su fano comunque il tempo rimane un po incerto perturbato su tutta la regione vediamo un alternarsi tra cielo sereno e cielo nuvoloso instabile dunque dal pomeriggio con piogge a partire dai rilievi in sconfinamento sulle coste centro meridionali verso sera insomma nel tardo pomeriggio il calo è termico delle temperature si fa un pochino più fresco ma siamo sempre nelle temperature estive le minime sono sui 18 gradi le massime sui 24 e venti sulle coste espireranno da una direzione di nord ovest nell'interno invece con una tensione media da nord le temperature come abbiamo detto sono in calo e cominciamo a sfogliare il giornale questa mattina a partire dal resto del carlino dove l'apertura su fano è dedicata alla partenza della tappa dell'adriatica ionica race festa di popolo ieri veramente una festa molto molto bella il ciclismo fa sempre colore fa sempre calore ciclisti osannati tra selfie e applausi una kermesse che si svolta nella meravigliosa cornice del pincio di fano tra l'arco d'augusto e il bastione amalatestiano del nuti ebbene con una così sorpresa per quanto riguarda i fanesi che si sono visti anche qualche problema perché insomma poi buona parte della circolazione di grande attraversamento della città è stata chiusa al traffico e quindi qualche disagio c'è anche stato traffico bloccato tante le divise ma tutto è filato liscio dice il resto delle carlino si è corsa ieri la tappa fano si rola fano si rolo ciclisti osannati tra selfie e applausi è stata dunque una mattinata di festa e di colori la partenza dal pincio la corsa ideata dal campione del mondo moreno argentin che ha detto che ha osannato fano per l'accoglienza ricevuta e per la bellezza della città il sindaco seri e sorcinelli si sono congratulati con il campione di san costanzo giovanni carboni che ha fatto la sua bella impresa nell'arrivare verso la città della fortuna vediamo le altre notizie il cantiere sant'arcangelo un'altra tegola sono fermi i lavori per la trasformazione di questo edificio il museo del carnevale e in casa della musica ebbene ci sono problemi per l'affidamento della gara d'appalto la prima la seconda la seconda che è arrivata nella classifica ha fatto ricorso il consiglio di stato e il tar gli ha dato ragione c'è ricorso al consiglio di stato insomma ora c'è una battaglia tra le carte bollate la ditta pensi prende tempo e rallenta i lavori così il comune è costretto ad affidarli a navarra il secondo classificato ci sono problemi comunque organizzativi intorno a questo grande progetto importante progetto per troppi interventi e per reperire le maestranze è un colpo di scena quello che si è verificato nel cantiere del sant'arcangelo fabbrica del carnevale e casa della musica i lavori saranno eseguiti dalla ditta milanese navarra che aveva fatto ricorso al tar vincendolo contro la graduatoria stilata dal comune dietro la vincitrice che è la pensi e abbiamo visto come la pensi prende tempo e rallenta i lavori finire i lavori al mancini ora parliamo di altri lavori ma sempre molto importanti perché coinvolgono uno delle una delle strutture più importanti della città quello dello stadio prima i campi in sintetico li ha chiesti il presidente russo nella conferenza stampa che si è svolta l'altro giorno per evidenziare quale sarà il futuro dell'alma calcio e dopo le sollecitazioni dei tifosi del movimento 5 stelle che hanno spinto il comune ad investire ancora di più sul mancini russo però ha raffreddato la situazione dicendo che forse sono più urgenti due campi sintetici per consentire all'alma gli allenamenti e dopo le sollecitazioni appunto da queste parti che avevano chiesto al comune di completare i lavori il presidente russo spariglia le carte se dovessi scegliere ha detto tra la sistemazione del mancini e due campi in sintetico per l'alma a parità di spesa scelgo i due campi insomma ci sono poi delle contingenze delle priorità che vengono che vengono così rilevate prima di fare i lavori al mancini dovrebbero essere fatti tutti entrambi gli interventi però ovviamente i fondi non ci sono per l'uno e per l'altro insieme variante gimarra la maggioranza prepari le valigie ed ha un po scompaginato le relazioni politiche l'intervento di renato claudio minardi che è un po l'eminenza grigia del partito democratico se ne sta un po alla finestra non ha incarichi di carattere amministrativo ma pesa dal punto di vista politico e insomma il modo con cui ha reagito nei confronti della giunta seri ha dato adito alle minoranze alle opposizioni di insistere su questo argomento insomma ha dato fieno all'opposizione per replicare per insistere in merito ai problemi che travagliano insomma la giunta seri e dopo l'out out i minardi la politica si scatena è chiaro che quei 20 milioni sono già persi dicono appunto quelli della opposizione partito socialista e noi giovani comunque respingono l'alto là dell'ex consigliere regionale renato claudio minardi sulla variante rigimarra dicendo insomma ma a parte il fatto che si dice che questi soldi non sono persi da parte della maggioranza comunque anche una situazione politica instabile in questo momento non è certo quello che ci vuole per programmare il futuro della città di fa ancora altre notizie allagamenti marotta il sindaco barbieri gioca tutto in campo mette 2,7 milioni un budget sostanzioso per risolvere un problema annoso quello degli allagamenti di marotta ecco gli interventi che vengono annunciati dal sindaco il progetto prevede prevede la realizzazione di un nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche in via corfu che interesserà anche le vie perpendicolari della stessa ovvero via ferrari via martini betti e rovani oltre a questo tratto fognario che dovrebbe ricevere le acque che provengono anche da monte perché poi le colline sovrastanti a marotta dilavano le acque verso la costa ebbene oltre questo tratto fognario saranno realizzati un canale chiuso che passerà sotto la statale 16 e la linea ferroviaria è un nuovo segmento in via chienti fino al mare ebbene lo ha detto durante l'assemblea pubblica il sindaco che si è svolta nella sala parrocchiale di san giovanni seguita da oltre 80 persone quindi un problema che interessa molto i residenti di marotta a urbino a urbino vediamo san bernardino il mausoleo dei duchi dove riposa anche dove riposano anche i resti del duca federico finalmente un rinascimento anche per il mausoleo questa chiesa questo edificio che sorge in un colle di fronte a urbino isolato in un contesto ambientale veramente molto bello ebbene è stato reso bello dagli interventi di restauro anche l'interno e l'esterno di questo edificio e ieri c'è stato il taglio del nastro per gli interventi di restauro che sono stati eseguiti pareti arredi interni illuminazione è tutto nuovo e quello che risalta di più l'ho detto anche nella giornata di ieri è una riproduzione in tutti i minimi particolari eseguiti dalla pala dei montefeltro eseguita da piero della francesca che è costudita all'accademia di brera a milano ebbene è stata prelevata dai francesi nel 1800 da urbino dovrebbe ritornare ma al momento ci si accontenta di questa riproduzione è una coppia ad alta risoluzione che evidenzia la bellezza e anche la magnificenza della corte di federico ritratto lui stesso in armatura in ginocchiato di fronte alla vergine anno federiciano festa fino al 2023 e sgarbi sogna i grandi ospiti grandi manifestazioni per il compleanno del duca federico secondo sgarbi che è un po il deux ex macchina della cultura urbinate si pensa di portare personaggi di spicco come macron veltroni e lang per parlare del rapporto tra arte e potere voglio portare in città gente così culturale per evidenziare l'importanza del rinascimento urbinate e della bellezza di questa città incastonata tra le corline della provincia di pesaro dai robot alle poesie litis fa incetta di premi sempre ad urbino riconoscimenti alla recensione di uno studente della terza a meccanica poi alla quarta a elettronica per wikiversità e alla classe di elettrotecnici una scuola che si distingue per i risultati a fine anno e poi a cagli vediamo che l'auser si pone a fianco degli ultimi tutti i servizi della sede sono stati inaugurati gli uffici dell'ex scuola d'arte sistemati a sede di questa associazione di volontariato veramente importante per i servizi che rende ai disabili agli umili ai diseredati progetti per l'invecchiamento attivo dei pensionati impegnati anche la caritas e l'associazione sotto sopra in queste stanze deve sventolare ha detto l'avvocato barbara bischi ogni giorno la bandiera dei diritti sociali contro la solitudine e l'auser combatte veramente una battaglia contro la solitudine spesso facendo decine e decine di telefonate ogni giorno per informarsi sulla salute e sullo stato mentale delle persone che vivono sole e che spesso non hanno altre persone con cui confidarsi e risolvere i mille problemi dell'attività quotidiana vediamo anche le pagine pesaresi del resto del carlino dove un articolo ci commuove per la sua intensità e per la sua problematicità si tratta della morte desiderata da fabio il degente che da anni è immobile in un lettuccio può muovere solo gli occhi pensate cosa vuol dire stare giorno e notte immobile in un letto fabio la sedazione profonda nell'ospice nell'ospice di fossombrone sarà la sua ultima dimora e sarà lì che fabio desidera e riceverà la morte a giorni sarà trasferito per affrontare l'ultimo sonno la sua rabbia e atroce non poter decidere della propria esistenza quella morte che lui ha desiderato ormai da tanto tempo ha invocato e ora sembra che è arrivato insomma al capolinea ebbene ha avuto un dialogo con il medico di fossombrone dell'ospice di fossombrone carlo alberto brunori che conosce bene il caso e anche per aver fatto della commissione medica che ha valutato nei mesi scorsi le richieste appunto di fabio del 46enne e la chiacchierata sull'addio è stata un po' già consumata e quindi ora si tratta di rappresentare l'ultimo atto l'emozione e gli occhi che diventano lucidi si la mia famiglia mi dispiacerà lasciarla ha detto appunto l'uomo che sta per morire beh insomma è un articolo veramente che lascia il segno Salone del mobile a Milano Pesaro traina le marche un clima positivo partenza col piede giusto ieri c'è stata l'inaugurazione di questo salone alla fiera di Milano era presente anche il vice presidente della regione Marche Mirko Carloni al taglio del nastro una produzione di grande qualità ha detto Carloni e noi siamo protagonisti Vittorio Livi di Fiam vice presidente di Confindustria sta andando bene il settore nonostante le assenze annunciate di cinesi e russi cinesi e russi che hanno dato un colpo all'economia provinciale quella del mobile ma che ovviamente si sta cercando di contemperare appunto questa assenza con la ricerca di altri mercati e l'occasione del Salone del mobile di Milano è appunto un'opportunità da cogliere sia dal punto di vista della qualità che dal prezzo della concorrenza insomma Cassa di colmata al porto? Falso Nessuna data certa C'è stata una botta e risposta nell'ultima seduta del Consiglio regionale tra l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli e il consigliere Biancani del Partito Democratico quindi che rappresenta l'opposizione sullo sfondo di questo dibattito c'è l'atavico problema del dragaggio Baiocchi di Fratelli d'Italia dice che il cambio di rotta c'è e sostiene le tesi ovviamente del assessore Baldelli si tratta di un investimento che la Regione ha preventivato per quanto riguarda il porto di Pesaro di 11,5 milioni per la vasca di colmata e per l'elettrificazione delle banchine appunto del porto solo che sono investimenti che devono essere eseguiti e qua abbiamo un'intervista invece al segretario provinciale della CGL Rossini il quale fa una proposta sul fronte della sanità dice uniamo Marche Nord con Torrette in una azienda unica è una proposta insomma che fa riflettere un'unica azienda ospedaliera potrebbe secondo il sindacalista modulare le specialistiche in base alle esigenze del territorio meglio insomma modulare le specialistiche secondo le esigenze del territorio decidendo magari di tenere al nord quelle specialità che possono ridurre la mobilità passiva che tanto pesa sui bilanci regionali avremmo secondo appunto Rossini un unico responsabile del Dipartimento interaziendale con due deramazioni per un'azienda di secondo livello articolata su un territorio più vasto che comprenda dunque anche l'azienda ospedaliera di Pesaro non si smantellerebbe poi il nostro sistema ospedaliero né si perderebbero le caratteristiche di un primo livello che non potrebbe mai avere appunto l'azienda c'è un dibattito intenso sul futuro di Marche Nord se deve confluire un po' sull'area vasta e quindi combinare l'assistenza ospedaliera con quella del territorio oppure rimanere appunto in modo specifico sull'attività ospedaliera e veniamo alla cronaca sedicenne accusa violentata nel casolare si tratta di una ragazza di Pesaro che ha denunciato un giovane siciliano residente a Fano chiedendole un risarcimento cospicuo di 100.000 euro insomma questa ragazza avrebbe partecipato a una festa avrebbe conosciuto questo giovane siciliano avrebbe relazionato con lui si sarebbe lasciata convincere ad andare a passare la serata in una casa isolata di proprietà appunto di questo ragazzo nelle campagne del nostro territorio e lì tra un bicchiere e l'altro magari è un po' su di giri si sarebbe consumato l'atto sessuale a questo punto c'è una diversità di tesi divergenti lui dice che lei era consenziente lei invece dice che è stata violentata ed ora sarà il giudice a dover decidere su questo caso 100.000 euro per abuso sessuale la richiesta di indennizzo da parte della ragazza una detenuta tenta il suicidio un agente la salva un altro caso a Villa Fastigi ha provato ad impiccarsi in cella utilizzando la vestaglia decisivo all'intervento di una poliziotta penitenziaria non si conoscono i motivi per cui questa detenuta ha compiuto, ha tentato di compiere questo insano gesto per fortuna comunque l'intervento tempestivo della guardia è riuscito viene definita angelo azzurro questa guardia, questa poliziotta penitenziaria che è intervenuta subito e per fortuna ha cambiato il corso del destino della donna sottraendola alla morte comunque non è il primo caso che accade anche nella casa circondariale di Villa Fastigi la denuncia il sindacato, il SAP è l'ennesimo episodio simile nei penitenziari dove c'è un malessere generale che trascende un po' il significato duro della pena insomma si va un po' oltre razzi nautici buttati nell'indifferenziato un caso di una incoscienza inenarrabile finiscono in discarica potevano esplodere Marche Multiservizi denuncia questo caso immediato all'intervento dei nostri operatori razzi nautici buttati in un cassonetto dell'indifferenziato nella zona del porto erano all'interno di un sacco nero scaduti ma ancora potenzialmente esplosivi sono stati caricati insieme agli altri rifiuti sul camion e secondo il normale percorso di conferimento sono arrivati nella discarica di K. Asprete e insomma qui per fortuna sono stati ritrovati dagli operatori di Marche Multiservizi e resi inoffensivi e poi un altro caso di cronaca vediamo botte in famiglia ma stavolta sotto accusa ci finisce la moglie si tratta di una donna piuttosto insomma velleitaria una 57enne originaria della Puglia residente nel Pesarese e disoccupata a denunciarla è stato il marito il quale dopo l'ennesimo il marito è più vecchio di lei ha 70 anni quindi c'è molta differenza di età dopo l'ennesimo litigio ha detto di aver subito le aggressioni della donna la quale gli ha morso un braccio gli ha sferrato due calci alle gambe la vittima è andata poi anche al pronto soccorso a farsi medicare e quindi a questo punto è arrivata la denuncia ha detto basta separiamoci perché così non si può andare avanti chiudiamo il resto del carlino diamo un'occhiata invece al Corriere Adriatico vediamo la pagina di Fano il titolo sostegno alla protesta dei pescatori misure in giunta e unità tra i sindaci ieri il sindaco Massimo Seri ha incontrato i pescatori fanesi in sciopero nella banchina del porto è la terza settimana che la marineria fanese non va in mare doveva andarci in questo inizio settimana per due giorni ma alla fine ha rinunciato perché altrimenti si sarebbe rotto il fronte compatto delle marinerie marchigiane fronte che insomma è aperto a molti scossoni insomma c'è chi vuole andare a mare in mare a tutti i costi perché non può più sopravvivere se rimangono le barche all'ancora e c'è invece chi ha imboccato la strada dura cioè resistiamo ad oltranza perché altrimenti non riusciamo poi più a sopravvivere l'impegno assunto dal sindaco quello di riunire tutti i sindaci dei porti delle marche per fare un fronte comune nei confronti del governo sensibilizzando per avere in maniera più precoce insomma più rapida dei provvedimenti a sostegno della marineria e poi fare il possibile anche da parte del comune magari con degli sgravi sulle bollette dei sostegni come ci sono fatti per tante categorie poste in difficoltà in occasione del covid della pandemia l'impegno per concrete azioni d'aiuto preso dal sindaco Seri con la marineria esasperata dal caro gasolio e poi vediamo qui l'articolo che riguarda la partenza dell'Adriatica Ionica Reis dal Pincio di Fano una bella festa Argentin un onore essere ospitati da questa città ha dichiarato il corridore organizzatore di questa bella Kermess ciclistica storia plurimillenaria come cornice e sì, la cornice dell'arco d'Augusto come abbiamo detto, i giardini del Pincio il bastione del Nuti le mura romane un contesto storico di eccezionale importanza ma veniamo anche ai problemi le piste ciclabili e risorse per l'economia locale sarà questo il tema di un convegno organizzato alle 16.30 nella sala ipogea della Memo per venerdì prossimo l'economia legata alle piste ciclabili muove milioni di turisti e miliardi di euro in tutta Europa anche Fano si sta muovendo per realizzare piste ciclabili e dobbiamo dire che quando si tocca una strada non è che non sorgono problemi perché poi si eliminano i parcheggi perché di spazio non c'è e allora ci sono posizioni contrapposte erba troppo alta tra le croci che tristezza questa incuria è un problema che ogni tanto si ripropone al cimitero dell'Olivo dove il campo degli incomposti dà uno spettacolo non bello desolante dobbiamo dire queste croci provvisorie questo campo posto al limite della recinzione del cimitero dell'Olivo un po' così trascurato il cimitero dell'Olivo è una bella struttura posta in collina con un disegno urbanistico un disegno architettonico veramente bello porta anche tra l'altro la firma di Gianni Lamedica però questo campo degli incomposti veramente lascia molto a desiderare e in questo caso c'è la protesta dei familiari di un defunto che invita il comune almeno a sfalciare l'erba per quanto riguarda Fossombrone vediamo che è stato presentato a Papa Francesco l'icona realizzata da un detenuto del carcere si tratta di una icona che rappresenta la parabola del buon pastore e qui vediamo appunto l'immagine di questo quadro che è stato offerto da Magnanelli al Pontefice diamo anche un'occhiata alla pagina di Pesaro dove vediamo che si parla in modo particolare della ciclovia adriatica il progetto è fatto ora manca la detta si tratta del tratto Colombarone-Gabice Belloni dice interverremo tra alcuni mesi probabilmente tre mesi e con questa notizia noi chiudiamo la nostra rassegna stampa Asimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani come sempre per le notizie del giorno alle ore 20.30 di questa sera con occhio alla notizia su Fano TV a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci a risentirci Grazie.